Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 5 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Fronte unito tra colleghi. Se il capo è un orco, e Saturno lo Zenit lo lascia supporre, coi colleghi di tutt'altra pasta oggi fate fronte unito. A garantirvelo il sestile di Giove al vostro segno, che rifugge gli ordini dall'alto cercando invece soluzioni condivise. Libertà di pensiero ed azione, dunque, contro schemi rigidi e obsoleti, il duetto Urano-Sole nel vostro segno agisce come una bomba pronta a spazzare vecchi schemi e strutture incancrenite per guardare al nuovo. E di novità ce n'è bisogno, con questo vecchio mondo che va a rotoli. Incapacità di esprimere i propri sentimenti, le proprie idee, di esporre le proprie ragioni. C'è un vuoto intorno alla tua persona che determina un profondo scoraggiamento. Poca armonia e poca volontà in tutto quello che si fa, scarsa riflessione e impulsività. Evita di dire tutto ciò che pensi. Cautela con pettegolezzi e bugie. Attento alle persone poco oneste. Chiudi bene la porta di casa quando esci. Cercate di risparmiare su tutto. Se potete rinviate qualche acquisto non proprio necessario e badate di avere sotto controllo ogni spesa. Mettete ordine nella vostra vita avendo cura di partire proprio dalle vostre amicizie che necessitano di un riordino anche drastico e radicale. Fate tutto al meglio. Oggi evitate accuratamente maghi e ciarlatani. Se qualcuno vi propone qualcosa che trascende la ragione, scappate a gambe levate. Se stavate pensando di entrare in una chiesa e di meditare un po' sulla vostra vita oggi è il giorno ideale per farlo. Novità sul lavoro e nello studio. Nutrire speranze va benissimo, ma se non vi attivate subito per risolvere una questione importante, questa potrebbe complicarsi e crearvi problemi. Attenzione agli autovelox per chi viaggia. Pene d'amore quasi al termine, per i nati di lunedì potrebbero trovare soluzione oggi stesso a patto però che non iniziate con le solite recriminazioni per certi versi assurde. È un periodo in cui sei particolarmente curioso, ti sentirai fiducioso, entusiasta e ti attirerà a tutto ciò che è insolito. Piccola delusione in arrivo, Marte si prenderà a burla di voi facendovi credere cose che non esistono. Alcuni si spazienteranno, ma badate che è solo uno scherzo del pianeta rosso. Le persone oggi si sentiranno irresistibilmente attratte dal vostro modo di fare, così spontaneo, magnetico e sicuro. Se lasciate guidare la vostra giornata dai sentimenti positivi apporterete miglioramenti evidenti nelle vostre relazioni. Se avete intrapreso un nuovo lavoro, è la giornata giusta per rendersi conto a cosa vi hanno portato le vostre scelte. Novità e soddisfazioni in campo professionale. Evento rarissimo, godete della positività del creativo Plutone, che vi permette di predisporre i simbolici semi per un raccolto rigoglioso. L'azione benefica del pianeta può agire in diversi campi, dal lavoro alla famiglia, dagli affetti alla parte degli interessi ludici e intellettuali, che di solito coltivate, permettendo una rinascita, un vero e proprio rinnovamento, in generale delle vostre prospettive di vita. Mai come adesso e, specie se nati tra 12 e 16 maggio, potete gettare un seme sapendo che presto la terra vi porgerà un fiore. Per i nati del toro c'è in vista qualche situazione che riguarda danaro, quindi se devi organizzare un evento. Se devi programmare qualcosa di importante entro l'estate muoviti, devi contare però i soldi che restano. Questa è una giornata buona, ci sono stati momenti un po' pesanti qualche settimana fa anche in casa o in famiglia. Siete sulla strada giusta per ottenere quello che fino a questo momento, non avete potuto nemmeno pretendere o sognare. In questo momento specifico, si sono create tutte le condizioni possibili. Ne dovrete approfittare, ma non ve lo farete ripetere due volte, perché siete molto più concentrati sull'obiettivo, oltre ad essere molto concreti. Siete stati per lungo tempo ad aspettare qualcosa che non è avvenuto, ma non per vostra colpa. Straordinariamente originali e controcorrente rispetto alla stabilità emotiva del vostro elemento, la Terra. È l'effetto del Sole e di Urano che vi augurano un compleanno sopra le righe, ma è qui che dovrete fare i conti con la pesantezza di Saturno allo Zenit, quanto mai prevedibile e noioso, financo pretenzioso. Amore ed Eros Tanti amici attorno a voi, catalizzati dal vostro charme e dal vostro carisma, ma non tutti vicini in senso spaziale, a farvi gli auguri di buon compleanno anche persone residenti in altri continenti che vi lanciano un invito per quest'estate. E non andate in giro a dire che non siete fortunati. Cari Toro, un occhio è nati sotto i segni dello Scorpione e dell'Acquario. Potrebbero esserci litigi e tensioni. Forse non è il momento adatto per pretendere così tanto dall'amore, calma. C'è tempo e modo. Al lavoro ci sono cose che possono andare meglio ma basta lamentarsi. Non serve a nulla. Le energie non vi mancano per affrontare un cuore infranto e arrabbiato per i vostri comportamenti ambigui. In questo periodo avete fatto un po' i furbetti, meglio dire la verità. Continua la sosta positiva di Urano nel vostro segno e voi siete dotati di un Eros quasi magico. Riuscirete a riavvicinare la persona amata che negli ultimi tempi ha dato segni di stanchezza. Saturno contrario può avervi creato qualche problema di comunicazione, ma ora, con lo slancio di cui gli astri vi dotano, il rapporto riprende quota. E se volete farlo volare ancora più in alto, con la sintonia erotica, convincetevi che quando l'amore vuol parlare, la ragione deve tacere. Lavoro e denaro L'occhio attento del vostro capo non vi molla un attimo, ha già capito che oggi avete la testa altrove, presi da qualche sogno o da qualche strano progetto che tuttavia, se saprete giocare bene le vostre carte, farà buon gioco anche a lui e all'azienda. Ultimamente siete così intraprendenti e geniali che vale la pena di approfittare delle vostre provate. Unico neo è che spendete parecchio, non solo denaro ma anche energie preziose. Saprete creare le giuste opportunità per sfruttare le vostre doti lavorative migliori. In questa settimana la soddisfazione sarà alle stelle. Giornato un po' faticosa in cui mettete in campo tutta la vostra resistenza fisica e psicologica. In serata fate il punto sulla situazione e concludete che avete saputo tener testa a difficoltà di non poco peso. Benessere Solito mal di schiena, ma qui non c'entra la stagione, piuttosto la postura sbagliata che tendete ad assumere sul lavoro. Date retta all'amico del consiglio che vorrebbe trascinarvi al corso di Aquagim, ci ha visto giusto e ancora una volta gli dovrete dar ragione. Un filo di nervosismo quando le cose non vi riescono al primo colpo, ma la soluzione non aprire il frigo e pescare qualcosa a casaccio da mettere sotto i denti giorni e notte. Le vostre inquietudini placatele con lo yoga. Prova ad avere una conversazione con te stesso per risolvere i tuoi problemi, mentre stai correndo o facendo esercizio in palestra. È utile chiarire i tuoi pensieri e i sentimenti mentre ti alleni. Per lei, acquisti stravaganti, in borsa e nel carrello della spesa, ma state sbagliando marcia, la libertà non si trova nell'avere, piuttosto nell'essere. Per lui, contestazione a tutto campo e non con la bandiera del diciottenne in manifestazione, l'imprinting sessantottino vi è rimasto nel sangue, anche se il fatidico diciotto l'avete già moltiplicato per tre o quattro volte. Colore delle emozioni, blu elettrico Barometro dell'umore, variabile Pagellina del giorno Sentimenti, 9 Attività, 6 Finanze, 8 Beneessere, 8 Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.